È in navigazione verso l'Italia, la nave 18 della Guardia Costiera, che ieri sera è intervenuta in un salvataggio nel mar Mediterraneo. Ad essere soccorsi, a differenza di quanto di solito ci riferisce la cronaca del mare stavolta, sono stati i 12 membri dell'equipaggio della Vostalassa. Un rimorchiatore, battente bandiera italiana, che non rischiava di affondare, ma il cui equipaggio rischiava invece di essere ammutinato da alcuni migranti, tratti in salvo dall'acqua proprio qualche ora prima. I fatti risalgono a domenica. La Vostalassa è a lavoro in acque libiche, vicino ad alcune piattaforme petrolifere. Avvista un barcone in difficoltà, con a bordo almeno 60 persone, le soccorre e con l'aiuto della Guardia Costiera libica tenta di riportarle a terra. La scelta di tornare in Africa però non piace ad alcuni migranti, due in particolare un sudanese e un ganese, che minacciano l'equipaggio e costringono il comandante a chiedere aiuto alla centrale operativa della Guardia Costiera italiana. In poche ore, a sostegno della Vostalassa, arriva la nave di Ciotti. Con una autorizzazione del Comando Generale della Capitaneria di Porto, i migranti vengono trasferiti a bordo della nave della Guardia Costiera. È la tarda sera di lunedì. Adesso, quasi 24 ore dopo, la nave di Ciotti è ancora in mare, direzione Italia, in attesa di sapere dal Viminale in quale porto a traccare. L'unica certezza per il momento, dicono dal Governo, è che i responsabili di quanto avvenuto pagheranno senza sconti di fronte alla giustizia.